Oggi parliamo di diplomazia industriale, una leva fondamentale nel dialogo fra le nazioni che ha il proprio fulcro nelle aziende, nel loro know-how e nelle loro attività. Esiste particolarmente in alcuni settori industriali, fra cui aerospazio, difesa e sicurezza, di cui elettronica fa parte. La ragione è semplice. Quando un paese straniero decide di avvalersi di un'azienda italiana per acquisire la tecnologia necessaria a proteggere il proprio territorio, esprime già con questa semplice decisione una posizione diplomatica, chiara e netta di amicizia e di fiducia nei confronti del nostro paese. Aggiungete poi che il procurement militare moderno si basa sempre di più su rapporti di scambio elaborati, non più quindi una semplice compravendita, ma piuttosto programmi congiunti di sviluppo industriale o di condivisione tecnologica. Ecco quindi che l'iniziativa commerciale di un'azienda come elettronica può diventare il catalizzatore di una serie di attività di dialogo e collaborazione fra enti diversi, università, istituti di ricerca, aziende, soggetti governativi, che facilitano così lo scambio di conoscenze e l'adozione di pratiche comuni e che comunque più in generale aiutano a consolidare rapporti positivi fra l'Italia e gli altri paesi. Elettronica con la sua rete di uffici e filiali estere ha da sempre orientato la propria attività in modo da essere una parte costruttiva e responsabile della nostra diplomazia industriale. Questo ci consente di svolgere il nostro lavoro con un pizzico di orgoglio e soddisfazione in più, perché crediamo che ogni nostro piccolo successo commerciale può tradursi in un successo anche per l'Italia. Grazie a tutti! Grazie a tutti.